mini radio web musica italiana nuova indipendente questa è la bandiera è la dichiarazione di guerra e d'amore per la musica perché cerchiamo la musica indipendente gli emergenti quelli che nei grandi network vengono diciamo tenuti un po indisparte antipaticamente disparte e invece noi ne facciamo la ragione di radio ragion di radio ma non è che ci occupiamo solo esclusivamente musica ci si occupa anche di altre forme d'arte che comunque concorrono o comunque operano insieme alla musica e questa è la cosa importante perché l'arte non è che la musica e la scultura sono due cose diverse fanno sempre parte della stessa famiglia quindi entriamo in questa famiglia e oggi abbiamo un'intervista infatti con un cantautore ma anche con uno scrittore che ci ha portato un libro importante e che ne leggerà una parte qui a questo altra economia la questo posto strano all'ex mattatoio che è cresciuto la città dell'altra economia è una cosa molto singolare strano questo posto però è divertente perché c'è tutta questa gente che viene porta a vendere dalle cose più normali a quelle più strane e qui si fa anche musica fortunatamente c'è uno spazio musicale allora gli ospiti di oggi per noi sono silvano staffolani e tullio bugari ovviamente silvano musicista e tullio scrittore si vede anche dall'espressione chi vede il video è benissimo l'espressione del musicista e dello scrittore allora buonasera cominciamo con silvano ciao davide un piacere essere qua e in questo bellissimo spazio sai veniamo in pace via una dichiarazione di guerra la tua ma noi portiamo la pace almeno ci proviamo di questi tempi è tanto difficile facciamo il possibile se ci riusciremo sarà visto più tardi siamo qua e a portare le nostre canzioni siamo entrambi marchigiani o lui io mi occupo della parte musicale e lui dalla parte letteraria tu hai detto bene prima perché l'arte le arti alla fin fine è una unica che racchiude tutte le altre le parole la scrittura non possono essere divise dalla musica a me personalmente non può accontentare solo una delle tante non solo la musica strumentale non solo la poesia fine a se stessa o la scultura o il cinema tutto quello che vuoi mettere quando sono insieme più ne sono messe insieme più il risultato è piacevole stimolante la creatività è ancora più messa in gioco noi cerchiamo di mettere per il momento insieme letteratura e musica dovrai rimanere qua per vedere quello che combineremo dopo e dici se ti sarà piaciuto o meno questo lo vedremo se resisto perché c'è una certa mi stanco facilmente e abbiamo anche tullio buonasera e se io sono lo scrittore il raccoglitore di storie ho raccolto queste storie in questo libro che si intitola all'erba dagli zoccoli sono dei racconti sulle sulle lotte sulle lotte contadine negli anni cinquanta nel dopoguerra ma anche sul mondo di allora che non esiste più fisicamente ma esiste come nostra storia come nostra esperienza memoria che abbiamo dentro di cui è importante ricercare in essi significati e quindi e quindi è nato questo libro di queste storie che raccontano un po vicende di tutta italia dalla sicilia al friuli in parecchie regioni e poi questa avventura anche di scrittura e di musica perché le serate di presentazione del libro è diventato un viaggio con letture e musiche musiche che sono nate a loro volta dalle stesse storie raccontate quindi io non avevo mai scritto testi per canzoni mi ha stimolato e trascinato silvano in questa cosa ci ho provato mi sono accorto che era divertente e la cosa funziona e ci sta divertendo molto e ci incoraggiano anche le persone che comunque vengono ad ascoltarci e a rivivere un po del resto la musica ha fatto sempre parte delle tradizioni popolari delle lotte stesse ci sono molti canzonieri tradizionali folk popolari che sono nati all'interno delle lotte o delle vicende sociali quindi in qualche modo ricreiamo anche se con un linguaggio musicale magari moderno con di oggi però siamo noi oggi che riviviamo quel mondo di allora allora tanto per avere un riferimento concreto per i nostri ascoltatori radiofonici soprattutto prendiamo da questo album che tu porti canzoni l'erba dagli zoccoli da questo album prendiamo un brano e ce lo ascoltiamo per la radio da quale brano vogliamo cominciare ma potremmo iniziare da quello che anche il primo che noi facciamo durante lo spettacolo che sogni alla deriva di cosa parla sogna la deriva è la storia dei migranti è difficile dare un età alle storie dei migranti è difficile dare un oltre al tempo anche uno spazio limitato perché sono cose che si ripetono nella storia proprio umana noi lo riportiamo all'età nostra facendo nostra una storia che si tramanda di voce in voce meglio che tramandarla attraverso il canto e la chitarra non ho trovato non abbiamo trovato altri mezzi in questo caso una canzone può trattare sia argomenti tragici sia argomenti divertenti e quello che la storia della musica popolare dove dentro rivivono sia fatti leggeri fatti scherzosi fatti quello che è la vita e sia la tragicità di chi attraverso l'essere migrante a volte trova un'altra vita a volte non trova più si spegne quella che ha di vita tentiamo in una maniera sotto forma di canzone popolare rendere tutto questo anche piacevole all'ascolto senza dimenticare una riflessione che va fatta attraverso le parole e quello che esprime la musica è compito degli artisti aiutare a riflettere allora ascoltiamo sogni alla deriva da silvano staffolani e parole di tullio bugheri ammini radio web quella da lavoro che la sant'ata da lettore sogni alla deriva ammini radio web da due artisti che hanno trovato insieme il modo di comunicare cose antiche ma modernissime allo tempo al pubblico di oggi cioè il contrasto fra quello che è stata la vita rurale e quella che adesso invece è diventata la frenetica vita moderna ma è comunque voglio dire qualcosa si può ancora ritrovare si può ancora raccogliere e stiamo parlando di questo album l'erba dagli zoccoli che di silvano staffolani e tullio bugheri che sono canzoni ma che vengono da questo libro che appunto è l'erba degli zoccoli dagli zoccoli e beh a una certa età è così di tullio bugheri allora come è successo cominciamo il vostro contatto la vostra amicizia cioè come sono stati i primi passi le prime parole è stata una vacanza che abbiamo fatto in marocco e ci siamo conosciuti lì abbiamo scambiato opinioni in quell'occasione ed era per la nostra meta era un festival di musica popolare guarda caso ritornano questi argomenti a essa uira dove c'è un bellissimo festival di musica popolare e dove tutte le persone partecipano in una maniera strana che da noi si è un po persa assomiglia un pochettino a quello che succede nel salento probabilmente con la riscoperta della pizzica che coinvolge tutte le generazioni il nonno figlio e nipote sono insieme e vivono la stessa esperienza in italia non tutta l'italia succede qualcosa del genere solo localizzate in alcuni territori noi siamo fortunati perché nelle marche ancora abbiamo queste tradizioni vive per cui di generazione in generazione si sta insieme si fa rivivere ma non è un rivivere far continuare qualcosa che non si è mai spento è solo soffiare sul fuoco per riavvivarlo lì noi ci siamo confrontati un pochettino su quello che ciascuno faceva di noi ho raccontato delle mie canzoni e infatti le prime volte le prime uscite c'erano esclusivamente le mie canzoni non erano ancora pronte queste altre è stata un po' una scommessa durante il nostro viaggio questo delle presentazioni appunto gli ho raccontato quello che facevo quello che riguardava sia il teatro che la musica e probabilmente Tullio si è incuriosito io incuriosito dai suoi perché il suo libro fin fine tratta e racconta quello che io vivevo attraverso le canzoni che ascoltavo abbiamo pensato di metterle insieme e questo è il risultato che sta crescendo ancora e Tullio la tua prima impressione quando hai conosciuto silvano sì il contesto era questo molto adatto di essa uira di questo festival e di questa atmosfera di fiera e festa continua io avevo già il libro era già uscito avevo già iniziato le prime presentazioni è un libro che è nato fin da quando scrivevo con l'intenzione di leggerlo di leggere ad alta voce dei brani anziché parlarne leggerlo direttamente e mi stavo arrangiando ogni volta con dei musicisti che amici che incontravo nelle nei posti dove andavo e quindi raccontavo a lui questa cosa e il passaggio successivo invece è stato quello di fare non una combinazione casuale di volta in volta ma iniziare a realizzare un dialogo diretto una collaborazione diretta e quindi parole e musica che hanno cominciato a confrontarsi direttamente a crescere insieme insomma allora vi accomuna anche il capello lungo e la barba è una uniforme sì tutti i marchigiani hanno i capelli lunghi e la barba quindi ci tocca perché altrimenti quando rientriamo subiremo la condanna di tutti gli altri che le marche possono essere solo con capelli lunghi e barba tutti hanno i capelli lunghi non esistono calvi nelle marche io sono passato anche a macerata e non sono riuscito a mangiare i vingisgrassi e questo ancora mi duele mi duele molto male sì che il piatto tipico più tipico il più tipico che c'è probabilmente sì in questo momento pensando alle marche mi viene in mente anche quello che è accaduto con il terremoto di recente perché noi parlavamo adesso delle canzoni delle storie e i vingisgrassi sono uno degli elementi che caratterizzano non solo non solo quelli culinari insomma ma tanti altri aspetti tornando alla musica alle tradizioni a questa storia eccetera in questo momento si sta vivendo un pericolo particolare insomma che un evento del genere può anche portare un colpo importante di frattura in queste tradizioni in questa storia in questo in questa identità che la cultura lo spirito delle marche quindi non qualche modo anche questa cosa ci ci prende abbastanza insomma ci riporta vicino poi le nostre terre sono altri elementi importanti insomma allora la storia rurale tu l'hai vissuta in prima persona o attraverso racconti sono come come se fosse diventato un racconto antico perché ero molto piccolo però sì l'ho vissuta in prima persona da piccolino quello che vivi è più un gioco che una realtà vissuta nel senso che tutto quello che riguardava il lavoro di campagna per me diventava un qualcosa di divertente non era sicuramente vedere un lavoro fisico pesante era fare il bambino tra le gambe degli adulti quando lavorano quindi ho dei ricordi piacevoli degli strumenti della campagna degli animali di campagna e di quello che gli odori le cantine il vino le grandi botti tutto rimangono più che ad averli vissuti ricordo di quello che erano appunto sensazioni come gli odori li ho vissuti li ho riscoperti tutti quanti da adulto con la riscoperta della musica popolare che per me è una continuazione diretta senza linea di interruzione di quello che è stato il rock con cui sono cresciuto alle stesse basi musica popolare luna fatta con lo stesso schema e con la stessa abilità e capacità di persone del popolo che ritrovano le stesse melodie vabbè magari non proprio gli stessi suoni ma la stessa modalità di approcciarsi con la musica con la carica e con la vitalità che deve esprimere allora ascoltiamo un altro brano da questo album che sarà quale vuoi scegliere Tullio sceglilo tu quello che dà il titolo a questo cd mezzatro mezzoladro contadino dedicato ai mezzatri mezzatro mezzoladro contadino è un titolo difficile impegnativo no 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 racconta quello che era il mezzatro la sua vita è stato bellissimo per lui mi ha passato il testo è diventato una prima parte della canzone che ascolterete è abbastanza come dire pesante seria perché sta raccontando i problemi che il mezzatro vive la canzone finisce e come ci siamo consultati io ho interpretato che a un certo punto il mezzatro dice ma ve ne andate tutti a quel paese era quello che volevo esprimere anche la canzone trasmette questo alla fine il senso è quello allora mezzatro mezzoladro contadino da silvano staffolani e tullio bugheri abbiamo ascoltato san martino mezzatro mezzoladro contadino da silvano staffolani e tullio bugheri che sono qua a roma in questo strano posto che si chiama città dell'altra economia ma non si capisce qual è l'altra economia comunque va bene c'è questo mercato ambulante e di ambulanti o comunque di cose anche come posso dire usate è un po una specie di porta portese va dai porta portese da noi è famosa allora voglio andare ancora più indietro nel tempo facciamo questo viaggio a ritroso proprio per ritrovare qualcosa le radici le radici silvano cos'è che ti ha portato a decidere la musica è il mio mondo che domanda grande che devo rispondere con una certa responsabilità per quello che dico perché potrei dire la prima fesseria che mi passa per e non è detto che proprio quella vado a rispondere in quel modo allora la musica come le arti che citavamo prima non sono propriamente un qualcosa che tu hai tutta questa facoltà di scegliere nel senso che hai una predisposizione per l'una per l'altra e quando te ne innamori è come quando ti innamori di una persona non è che scegli così tanto accade e non puoi scegliere altrimenti e questo è il guaio magari dici ma no basta io mi allontano da questo da questa mi allontano dalla musica non funziona in questo modo perché quando ce l'hai dentro una passione che un po ti consuma un po ti brucia un po ti fa vivere è quello che ti fa vivere ti dà la spinta per affrontare tutto il resto di quello che ti può succedere ciascuno di noi si deve innamorare della musica delle persone di quello che volete del mercato o quant'altro finché c'è quel tipo d'amore ma quanti anni avevi c'era l'ottocento c'era il bagliocco e si suonavamo i tamburi non c'è quanti anni avevo 6 7 il primo amore della musica in realtà è stata la radio perché quello che trasmetteva la radio attraverso quello sentivi quello che gli suoni che c'erano in giro poi dopo subentra alla ricerca capisci cosa ti piace di più cosa di meno e in base a quello rienti i tuoi gusti cerchi vai a scoprire quindi arrivano i concerti la televisione e quant'altro all'inizio il primo strumento chitarra sempre chitarra è stata da piccolino forse era appena troppo grossa per me però era la chitarra classica la quelli quella con le corde di plastica difficile da suonare perché sono difficoltà tecniche per fare il barret per fare altri io suonavo la chitarra classica come se fosse una elettrica con distorsore c'era qualche problema esecutivo però già la strada era quella a quella sono ritornato adesso una chitarra acustica che la suono come se fosse una chitarra con distorsore non è cambiato niente e a questo punto Tullio ci dovrà raccontare come è iniziato l'amore per la scrittura quindi invece della chitarra carta e penna o matita carta e penna sì all'inizio carta e penna ma diciamo la scrittura o il libro in quanto tale è stato sempre presente da quando da quando a quanto indietro risalgono i miei ricordi insomma non era una casa piena di libri anzi tutt'altro perché era una famiglia contadina sono nati in campagna il libro era un oggetto raro però era presente e quindi diciamo c'è questa questa origine ancestrale ora per per farlo un po' più corta diciamo la che mi è sempre piaciuto scrivere però restringiamo il campo alla scrittura narrativa no quindi eliminiamo la saggistica o tutto il resto questo è più recente negli anni lo scrivere come in questo libro quindi salto direttamente all'oggi insomma ho ripreso storie vere quindi mi sono documentato storicamente e le ho raccontate come se fossero un romanzo per cercare di rivivere quelle che possono essere i punti di vista del singolo individuo il sentire la passione che uno mette dentro gli avvenimenti che vive ecco in questo senso come scrittura narrativa negli ultimi venti anni circa ho cominciato sì ad allontanarmi piano piano dalla dalla saggistica ho fatto molta molta sociologia ricerche sociali poi a un certo punto mi sono accorto che mi piaceva di più entrare ancora più in profondità non restare alla descrizione dei fenomeni ma cercare di medesimarmi allora la scrittura mi dà questo tipo di sensazione mi piace sia la narrativa sia la poesia i racconti in particolare il racconto breve e adesso anche la canzone perché stuzzicato da silvano se è aperta questa nuova strada ma il primo libro che hai letto il primo che ho letto in assoluto francamente mi ricordo di più il primo che ho comperato con i miei soldi che avevo e va bene ero all'età della seconda elementare in una colonia estiva avevo dei soldini da casa per il mio fabbisogno mensile arrivò il mercatino c'erano i dolci le cartolini franco bolli eccetera e un angolo di libri io compravi un libro è così che nasce proprio da bambini certe passioni proprio nascono da bambini infatti io la prima telecamera a cinque anni non sto scherzando ovviamente però devo dire che con la cinepresa 8 mm quella antichissima ogni tanto con la pellicola ovviamente ogni tanto qualche filmetto lo facevo e quindi è così allora vai con un altro brano sì andiamo con un altro brano e questa volta ascoltiamo su alzati maria dedicato a maria margotti maria margotti maria margotti allora noi raccontiamo come dicevamo prima delle storie mi piace dire che sono antichissime di qualcosa che non può succedere più perché raccontiamo un passato così distante nel tempo che le persone sono ovviamente migliorate gli errori che hanno fatto non li ripeteranno mai più per esempio qui c'è una donna maria margotti che muore durante uno sciopero mi piace dire che queste cose potrebbero non succedere più sto raccontando una boiata purtroppo perché quello con noi pensiamo che sia un passato così distante nel tempo una cosa che si ripete nuovamente continuamente allora alzati maria silvano difficile alzati maria giusto su alzati maria allora su alzati maria silvano staffolani e tullio bugheri a mini radio web abbiamo ascoltato su alzati maria da silvano staffolani e tullio bugheri questi due capelloni con la barba sono venuti a roma dalle marche e hanno quest'aria un po sessantottina diciamo no o almeno un tempo si diceva l'aria sessantottina oggi non lo so cosa si dice però importante è che la vostra musica ha quell'impegno che c'era nella musica degli anni nella mia biografia la prima riga cito posta dice nato giusto in tempo per assorbire tutte le contestazioni del 68 e farle sue perciò all'aria sessantottina ci sta ci sta confermo però non si arpa rossa ovviamente ma cosa perché ferendo c'è aria qua a roma io non sono abituato sono su del territorio mite delle marche dove si sta sempre con la stessa temperatura qua è freddissimo la sciarpa serve per quello dai non è non è più tempo di rivoluzione forse tutti i giorni è tempo di rivoluzione dai non abbiamo questa parola così grande da portare avanti come fosse una bandiera però nel nostro piccolo cerchiamo quello che dicevo prima attraverso una canzone fare un po riflettere non solo non è solo questione di svago anche quello però lo svago fino a se stesso non basta allora si torna a casa con una piccola riflessione poi giorni dopo magari hai fatto una cosa carina hai sentito un qualcosa che ti ha divertito ti è piaciuto e torni a rifletterci questo è lo sforzo più grande verso cui tendiamo l'impegno di far riflettere l'ascoltatore o il lettore è una cosa che un autore si auto impone che ricerca o che gli viene naturale saperlo saperlo è un po l'uno e l'altro non so non saprei dire no non me lo sono mai posto da questo preciso punto di vista diciamo che mi piacciono le storie importanti che mi trasmettono qualcosa che penso che siano importanti che ho il piacere di affrontare ma anche il piacere di raccontare ad altri insomma quindi di condividerlo che le storie poi che storie sono se non si possono condividere se non si possono raccontare se non si trova il giusto spazio per per farli rivivere tenerle con noi no sono hanno una loro importanza una loro vita un loro significato quindi in questo senso è un po l'uno e l'altro delle cose della domanda che mi fai perché poi va bene senza neanche essere troppo didascalici o educatori per forza no no questo no non mi piace perché mi piace di più offrire stimoli mettere a disposizione quello che ho trovato metterlo lì raccontarlo rielaborarlo nel miglior modo possibile per essere il più accattivante possibile poi chi ascolta prosegue da solo insomma no perché è giusto che prosegua da solo quindi possiamo dire che a tua insaputa ti viene naturale mi è congenito mi è congenito quest'anno abbiamo purtroppo perso alcuni importanti cantautori a me mi è un buono mi è così Paolo Conte ma non è l'unico purtroppo non abbiamo persi tanti e negli anni passati ancora tanti io faccio riferimento per esempio a Giorgio Gabber e ancora prima a Fabrizio De Andrè tu hai seguito le carriere le storie e insomma la musica di questi ragazzi cantautori purtroppo quello che piaceva a me è scomparso molto tempo prima perché il primo concerto che ho visto 13 anni credo 13 o 14 in massimo era Rino Gaetano è lui che mi ha fatto crescere cantautore atipico perché forse non lo metterai insieme agli altri non lo so per il suo modo il suo sarcasmo il suo modo di affrontare argomenti seri un pochettino quello che dicevo prima vicino alla maniera popolare di raccontare qualcosa anche di tragico in maniera leggera con gli altri ti rendi conto se il tema è pesante anche la musica lo segue un po' diverso dall'attitudine di musica popolare Rino Gaetano è venuto a mancare troppo tempo fa però ha gettato il seme di quello che poi doveva crescere dopo di lui ci è riuscito in pochi anni rompendo qualsiasi regola che fino a quel tempo vigeva non so se definirlo cantautore o anche lui un primo rocker si era avvicinato a un suono più rock un po' distante dal nostro italiano si è avvicinato un po' di tutto a regga ha fatto un po' di tutto perché era libero di fare qualsiasi cosa volesse abbiamo della musica di sottofondo che non so ci rappresenta diciamo diciamo che proprio in italiano a roma si dice rompe il cazzo e in radio web si può dire è ammesso allora ascoltiamo un altro brano così ci spostiamo visto che parlavamo di Rino Gaetano possiamo prendere il brano dedicato a Melissa dov'è qui nell'elenco fragala alle vittime di Melissa Melissa è un posto vicino crotone Rino Gaetano era di crotone io quando sono sceso per raccogliere visitare il posto dove è ambientata questa storia che ci fu un eccidio di furono morirono tre persone durante le cariche della celere in un'occupazione di terre oltre ad visitare questa zona sono anche andato a visitare a crotone il monumento a Rino Gaetano c'è un monumento a Rino Gaetano quindi già che siamo a casa sua anche se la canzone parla d'altro però mi pare mi pare bello l'abbinamento insomma quindi fragala dedicato a Melissa fragala dedicato a Melissa da Silvano Stafolani e Tullio Bugheri a mini radio web questa era fragala di Silvano Stafolani e Tullio Bugheri a mini radio web e stiamo procedendo nella conoscenza di due capelloni con la barba che mi cominciano a piacere veramente e sono contento di averli incontrati qui a questa strana città dell'altra economia lassù c'è anche una scritta su quella su quella vetrata il CAE città dell'altra economia è una cosa buffa ci sono esposizioni c'è bar e ristorante e tutto il resto ma ci siamo ci siamo anche noi tra poco suoneranno qui in un angolo riservato alla musica ma c'è una cosa che molti quando mi contattano mi dicono senti vorremmo fare intervista ma quanto costa e mi viene da ridere perché perché io ho un altro modo di pensare e invece sono tante radio che come tu mi dicevi sì e bisognerebbe distinguere chi fa musica e chi vive intorno alla musica chi ci mette la passione e chi invece ne fa un mercato eccolo qua l'altra economia anche quella è diventata una bella economia e l'emergente la musica emergente la vacca da spremere perché adesso come adesso è quella che ha più latte molte radio fanno fanno pagare i dischi quelli brani che passano fanno pagare le interviste così come le recensioni spesso sono a pagamento esistono dei listini prezzi e chiunque vuol fare un cd o qualsiasi cosa e lo mette come faccio io per esempio in free download tutta la mia musica in free download magari dopo questo lo ripetiamo con l'indirizzo nonostante questo c'è chi ti chiede soldi semplicemente per ascoltarla per divulgarla ora se questo fosse un catalogo quello che io spongo è un catalogo di merci in vendita è giustissimo quindi è tutta una vendita è una compravendita e ha le sue regole del mercato questo è un pochettino diverso dentro ci sono altre cose altri valori e ci si aspetta un altro tipo di trattamento la rivoluzione dell'inizio probabilmente ancora è ancora in corso sai non è mai finita e deve per forza continuare chi si scarica i miei cd troverà le indicazioni anche dei programmi usati per registrare per incidere e per suonare insieme non si tratta di far suonare una macchina devi dare tu le istruzioni quindi dovresti essere si pensa che tu ne sia capace per per avere un risultato come questo trovate le indicazioni fatevi la vostra musica registrate o la distribuitela se vi chiedono soldi fate come volete siete liberi di fare quello che volete ma quello è un mercato entrate in un mercato con le sue regole poi non state a contestarlo rispettatelo perché un'altra cosa se voi fate parte di un'altra tipo un'altra mentalità vivete alla fine in fondo perché non avete la possibilità tutti quelli che fanno musica continuate a farla senza farvi dire né come né per quanto io francamente sconsiglio di andare a pagare le radio per fare i passaggi perché un conto è uno spot pubblicitario e allora ha un senso ma quando tu mi dai la musica che è il contenuto di una radio e pretendi che io paghi a te il contenuto che ti fornisco è come andare al macellaio di me devi pagare la fettina che mi dai cioè paradossale per me è assurdo però il mercato è quello facessero come gli pare io sconsiglio chiunque di andare a pagare per fare dei passaggi radiofonici della musica ma per l'editoria mi sa che stiamo pure lì sì ci sono problemi analoghi esiste quella che viene chiamata editoria a pagamento che insomma lo scrittore scrive il libro e per pubblicarlo viene invitato a partecipare alle spese ma che significa pagare lui il libro e magari spesso possono essere anche più che delle case editrici delle tipografie di fatto che stampano e poi non si sa il libro dove va a finire è un mercato anche qui abbastanza complicato difficile probabilmente distorto a monte dai grandi gruppi della produzione della distribuzione che poi ne risentono tutti a me è capitato soltanto in casi particolari di libri che però erano legati a dei progetti sociali particolari con i quali si contribuiva alle spese insieme all'editore ma era un discorso diverso in ogni caso altri testi anche questo qui l'erba dagli zoccoli il l'editore è un piccolo editore marchigiano di macerata si chiama vidia piccolissimo più incosciente che che coraggioso da editore pensa lui alle spese a quello che fa normalmente l'editore insomma è difficile ma al di là di questo occorrerebbe non so tante mi è capitato anche di incontrare dei giovani che mi chiedevano ma tu hai pubblicato come hai fatto come posso fare io per contattare un editore non è semplice se non c'è proprio un sistema che aiuta che da una mano che indirizza che lavora insieme non siamo in un momento di paradossi quasi però giustamente l'autore che che scrive dovrebbe avere un riconoscimento per il lavoro per il lavoro che fa e non il contrario insomma altrimenti diventa tutto un forse forse troppa tv talk show di un certo tipo dove si vuole apparire tutti i costi e quindi questo mercato trova comunque gente disponibile a pagare pur di farsi vedere indipendentemente dalla qualità non so c'è un qualcosa a monte che distorce tutto insomma no e quindi va anche a scapito di chi invece lo intende in un'altra maniera questo tipo di attività guarda caso che proprio la politica è al centro di certi meccanismi e vabbè insomma al di là di ogni polemica il momento bello è live quando sali sul palco il pubblico davanti e veramente comunichi qualcosa c'è un posto dove possiamo andare a cercare le date dei vostri live suppongo facebook sai sì sì c'è allora il mio indirizzo www cartoline d'autore tutto attaccato punto blog spot punto com trovate tutto quanto le date sia delle presentazioni che dei concerti che facciamo in giro e trovate anche le mazzurche clandestine c'è questa bella novità che ho scoperto questa viene proprio dalla musica popolare venendo io da una realtà di gruppi in cui c'era bisogno basso batteria chitarra tastiere elettricità il palco che tu hai detto i permessi il posto il luogo fisico e la pubblicità da fare ossia organizzare qualsiasi cosa diventava un'impresa la mazzurca clandestina ti stacca dalla corrente devi solo pensare una bella piazza che ti piace devi solo pensare prendi la chitarra lo strumento e vai a suonare queste ne facciamo parecchie qualsiasi cosa che non abbia bisogno della dell'elettricità le facciamo una delle più famose nella nostra zona nella selva di gallignano a metà agosto quella è raccomandabile a tutti i lupi mannari come noi perché giustamente no e la prossima probabilmente il 26 di dicembre in una piazza caratteristica di jesi siamo nelle marche tu devi tornare per i vinci sgrassi quella potrebbe essere un'occasione per digerire quello mangiato prima e per ballare insieme a noi anche agli essi ci sono anche agli essi ci sono di buoni vinci sgrassi ma c'è una cosa che anche molto interessante che è il tormentone di mini radio web e adesso ve lo beccate ascoltatore di mini radio web smetti di essere ascoltatore passivo diventa ascoltatore attivo che significa che se questa intervista ti ha attratto e questa musica ti interessa e questa forma di spettacolo ti interessa e cercando sulle date sul blog spot vedi che nella tua città non è prevista una data cosa devi fare devi andare nel locale più bello della tua città parlare col direttore o col proprietario e gli dici se mi fai venire qui silvano e tullio a fare uno spettacolo io ti porto tutti i miei amici gli amici dei miei amici ti riempiamo il locale tu avrai il locale pieno e noi avremo i tre vantaggi questo è il tormentone primo un concerto e uno spettacolo indimenticabile secondo il disco portato direttamente al locale in modo poterlo acquistare dalle sue mani ma soprattutto chi insisterà abbastanza come farò io fra un attimo avrà l'autografo con la dedica sulla copertina bisogna che rassicuriamo che ascolta però possono venire anche se non hanno la barba e capelli lunghi non siamo così selettivi su via anche senza sciarpa rossa eh no quella dipende se c'è vento e aria portatevela serve sempre benissimo allora siamo pronti per un ultimo brano qua come si chiama l'ultimo brano che ascoltiamo il vento del nord perché vediamo di far soffiare ancora questo vento che sia del nord del centro del sud non lo interrompiamo non tiriamo sui muri per fermare questo vento tanto li butterà giù è inutile è un vento del nord e che poi alla fine della canzone diventa anche un vento del sud insomma io oggi per il referendum farei ispirare il vento del no comunque ognuno è libero di scegliere allora ascoltiamo il vento del nord da silvano staffolani e tullio bugari a mini radio web questo era il vento del nord silvano staffolani e tullio bugari a mini radio web e a questo punto dobbiamo arrivare ad una conclusione perché non è che un'intervista può durare in eterno deve avere un anche un punto di riferimento di fine allora i siti da i siti e i social network da seguire ripetiamoli proprio tutti quanti certo io sono silvano staffolani mi trovate su facebook nome e cognome altrimenti www.cartolineedautore.blogspot.com trovate tutti i cd che adesso faremo vedere e sono liberamente scaricabili non sono protetti da diritto d'autore non c'è siae c'è solo musica e questi però sono quelli precedenti a tullio precedenti no c'è anche quello di tullio sono tutti disponibili e tutti liberamente scaricabili e ascoltabili in streaming fateci quello che volete vi stampate la copertina e quando ci vedrete invece in giro quanto costa quello autografato perché tutto il resto è gratis l'autografo e piazzeremo una tariffa speciale sia sigla o firma intera e la dedica anche con affetto simpatia e stima e tante altre cose grazie veramente questo è il riferimento sul web se invece uno ti vuole scrivere per mandarti un messaggio d'amore di stima o di insulto no no c'è anti 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 spam arrivano solo quelli di stima ma gli insulti non arrivano quindi l'ho già no assolutamente perché ho ben programmato tutto arriva solo un filtro che differma tutti praticamente nessuno scrive quindi su facebook ti possiamo contattare allora a questo punto c'è un altro rito importante di mini radio web che è l'augurio super classico al quale devi trovare una risposta creativa perché io ti dirò in bocca al lupo e tu mi risponderai magari sì sì perché se ti prende il lupo nella bocca ti tiene nella bocca ti tiene difeso ti porta dove vuole lui ma va bene non fa niente facciamoci questo giro l'importante è sapere che siamo sani e salvi dall'inizio viaggio e arrivo e per tullio ancora un in bocca al lupo e vive il lupo che il nostro simbolo anche della vita che ancora dovrebbe scorrere in questo nostro appennino così in un momento così particolare un appennino veramente torturato bene ragazzi è stato bellissimo e adesso andiamo al live si tra poco adesso ci stappiamo la bottiglia di rosso conero e poi scorrerà da solo tutto quanto grazie ciao ciao a presto ciao grazie a voi ciao